Ciao a tutti amici viaggiatori e bentornati su Viaggiamo Easy. Se ancora non ci conosci sappi che siamo un gruppo di ragazzi che ti porta a scoprire il mondo attraverso itinerari di viaggio. Cerchi infatti nel nostro canale e troverai centinaia di destinazioni. Nel video di oggi ad esempio scopriamo un viaggio esotico tra Thailandia, Indonesia e Singapore. Preparateli quindi ad esplorare culture vibranti, paesaggi unici e città davvero affascinanti. Come sempre vi lascio anche i nostri contatti e i link in descrizione per prenotare questo viaggio. La prima tappa è Bangkok, la capitale della Thailandia, una metropole vivace e caotica, famosa soprattutto per il mix unico di modernità e tradizione. È infatti una città dove grattacieli moderni convivono con antechi timpi buddhisti, come ad esempio il maestoso Wat Phra Kyu e il Wat Arun. È anche però celebe per i suoi mercati vivaci come ad esempio il Chattapook e il mercato galleggiante di Damon Sadak. Oltre ovviamente al cibo di strada dove potete gustare specialità come il Fat Thai e il Mango Skrik Rice. La vita notturna poi è altrettanto dinamica, con rooftop bar e locali animati lungo la Khao San Road. Bali invece è conosciuta come l'isola degli dei, una delle destinazioni più affascinanti dell'Indonesia. Famosa soprattutto per le sue spiagge tropicali, i paesaggi mozzafiato e una ricca cultura spirituale. Offre infatti un mix perfetto di relax e avventura. La regione di Ubud infatti è il suo cuore culturale con i suoi templi, le terrazze di riso e l'arte tradizionale balinese. L'isola è poi però anche un paradiso per gli amanti del surf, soprattutto nelle zone di Kuta e di Uluwatu. È anche intrisa di spiritualità con numerosi templi come il Tanalot, oltre a pratiche come lo yoga e la meditazione. Singapore è invece una città stato moderna e all'avanguardia, famosa soprattutto per il suo skyline futuristico e l'efficienza impeccabile. Combina infatti tradizione e innovazione con quartieri etnici come Chinatown, Little India e Campon Glam che offrono un mix di cultura e cucina. I punti di interessi più iconici includono anche Marina Bay Sound con il suo famoso rooftop e Garden by the Bay, un parco futuristico con giganteschi supertree illuminati. Nonostante la modernità, Singapore è anche ricca di natura con spazi verdi come il Botanic Garden e la riserva naturale di Bukit e Timar. Fatemi però sapere ora cosa ne pensate di questo viaggio e soprattutto con chi lo fareste. Ti invito poi a mettere mi piace e condividere il video per sostenere il nostro lavoro. Prima di lasciarci però vi lascio anche il nostro itinerario completo. Il nostro viaggio non può che partire dalla famosissima isola di Bali, gioiello indonesiano che incanta i visitatori con la sua bellezza senza tempo e la ricca cultura. Conosciuta come l'isola degli dei, Bali è un mix di tradizioni antiche e paesaggi mozzafiato. Le sue spiagge di sabbia dorata si tuffano nelle acque cristalline dell'oceano, mentre le risaie a terrazzo si estendono come dipinti viventi sotto il sole tropicale. Ma Bali è molto di più di un paradiso naturale, è un crogiolo di spiritualità, con tempi intricati e sacri che punteggiano l'isola, offrendo anche una finestra sull'antica cultura balinese. Visiteremo infatti il Tempio di Uruguatu, un luogo sacro e iconico situato sulle scogliera picco sull'oceano dell'isola di Bali. La sua architettura tradizionale balinese e le maestose sculture sono infatti testimonianza di una ricca eredità culturale, mentre il suono delle onde che si infrangono sugli scogli crea un'atmosfera magica e contemplativa. Affacciato infatti sull'infinito blu dell'oceano, il Tempio è famoso per i suoi tramonti spettacolari, offrendo una vista mozzafiato mentre il sole si tuffa nell'orizzonte. Il giorno successivo ci spostiamo invece a Ubud, capitale culturale e spirituale artistica di Bali. Questa affascinante cittadina, incastonata tra le risaie a terrazze, è infatti un concentrato di arte, spiritualità e tradizioni millenarie. Ubud è rinomata per la sua vivace scena artistica, con gallerie d'arte, mercati artigianali e spettacoli di danza tradizionale che catturano l'anima e l'immaginazione dei visitatori. Ma non è solo un centro artistico, Ubud è infatti anche un luogo di profonda spiritualità, con templi sacri e luoghi di meditazione immersi nella lussureggiante foresta tropicale. Le risaie a terrazze che circondano questa cittadina emanano infatti una bellezza serena, offrendo uno spettacolo mozzafiato che riflette la perfezione dell'arte agricola balinese. Ubud è un rifugio per l'anima, un luogo dove l'arte, la spiritualità e la natura si fondano in un'esperienza unica e indimenticabile. Restiamo anche il giorno successivo a Ubud per visitare la foresta delle scimmie, situata nel centro della città. Questo santuario è famoso ovviamente per la sua popolazione di scimmie, principalmente macacchia a coda lunga, che vivono liberamente all'interno della foresta. Questo luogo però è più di una semplice attrazione turistica. Oltre a offrire un'esperienza affascinante di osservazione delle scimmie nel loro abitato naturale, è infatti anche un centro di conservazione dedicato alla protezione della vita selvatica e alla preservazione della foresta. All'interno della riserva potrete infatti ammirare anche antichi templi sacri risalenti al XIV secolo e osservare da vicino le scimmie mentre giocano, si nutrono e interagiscono con i visitatori. I due giorni successivi staremo invece a Lombok, un'isola est di Bali, celebre per le sue spiagge incontaminate, le acque cristalline e i paesaggi spettacolari. Conosciuta come l'isola tranquilla, Lombok offre infatti una combinazione affascinante di bellezze naturali, tradizioni culturali e avventure all'aperto. Le sue spiagge, come la rinomata Cuta Beach, sono spesso punteggiate da baglie tranquille, affascinanti scogliere e surfisti che cercano le onde perfette. L'isola è considerata la porta d'accesso alle Giri Island, un arcipelago di tre piccole isole famose per le sue acque cristalline, ideali per gli amanti dello snorkeling. Oltre alle spiagge, Lombok è famosa anche per il Monte Rindjani, un vulcano attivo che si impone sull'isola. Pensate che si tratta del secondo vulcano più alto dell'Indonesia, culminante a oltre 3.700 metri sopra il livello del mare. La sua vetta offre uno spettacolo mozzafiato, con un cratere che ospita un lago azzurro, il Sagaranak, e una più piccola sommità ancora fumante. Salire questo monte è un'esperienza intensa e davvero gratificante. Gli escursionisti affrontano sentieri tortuosi attraverso foreste lussureggianti, passando per paesaggi che cambiano da giungle a distese di lava vulcanica. Le viste panoramiche lungo il percorso sono semplicemente spettacolari, regalando momenti di pura meraviglia e gratificazione, mentre ci si avvicinano alla cima. I prossimi due giorni li trascorreremo invece a Yogyakarta, sull'isola di Yava. È considerato il centro culturale e artistico del paese, ricca di storia, arte e tradizioni. La città è celebre per i suoi antichi siti storici, tra cui i magnifici templi di Borobudur e Pranbanan, entrambi patrimonio dell'umanità UNESCO. Borobudur è il più grande tempio buddista del mondo, un capolavoro architettonico risalente all'VIII secolo, mentre Prabhbanan è un complesso di templi hindù con sculture dettagliate e incantevoli. Oltre ai siti storici, Yogyakarta è anche però conosciuta per la sua vivace scena artistica e artigianale. I suoi mercati tradizionali, come il mercato di Moloboro, offrono una varietà di prodotti locali, opere d'arte, tessuti e orgetti artigianali unici. Trascorriamo infatti questo secondo giorno in questa città, sperimentando anche la cucina locale. Vi consiglio di provare il good egg, un piatto a base di jackfruit, cotto in una miscela di latte, di cocco e spezie. La prossima tappa sarà invece l'isola di Komodo. Sono sicuro che qualcosa già lo conoscete di quest'isola, ma vi assicuro che c'è davvero molto altro. L'isola è parte dell'arcipelago delle piccole isole della Sonda in Indonesia. È sicuramente famosa per essere la casa dei draghi di Komodo, i più grandi rettili al mondo. Trascorreremo la prima giornata interagendo con questi simpaticissimi esemplari, molto simili a draghi mitologici, stando però attenti a non disturbarli e non infastidirli, in particolare durante la siesta. Oltre ai draghi, però l'isola ha davvero molto altro. Offre infatti paesaggi mozzafiato, con spiagge incontaminate, acque cristalline e una ricca biodiversità marina. È un paradiso per gli amanti delle immersioni subacque, offrendo la possibilità di avvistare una varietà di pesci tropicali, coralle e altre creature marine uniche. L'area circostante, compresa nel Parco Nazionale di Komodo, comprende anche diverse altre isole che ospitano una fauna e una flora davvero unica. L'isola di Komodo è davvero una destinazione imperdibile per chi è affascinato dalla natura selvaggia e dalla straordinaria varietà della vita animale e marina. L'ultimo giorno facciamo poi rientro a Bali, per una giornata di relax o per fare gli ultimi acquisti prima di prendere il volo di rientro. Ora non ci resta che valutare questa fantastica meta secondo le nostre solite categorie, costo, cibo, sicurezza e attività. Per quanto riguarda il costo, do tre stelle. L'indonese infatti offre un'ampia gamma di opzioni di spesa. Mentre alcune aree possono essere più accessibili in termini di alloggio e cibo, altre sono invece lussuose, quindi i costi varrono notevolmente in base alle preferenze e alle zone scelte. Il cibo a mio avviso merita 5 stelle. La cucina indonesiana è infatti davvero varia, gustosa e accessibile. Dai ristoranti locali che offrono piatti tradizionali economici alle esperienze gastronomiche più raffinate, l'isola è una festa per i buon gustai, offrendo una vasta gamma di sapori autentici e deliziosi. Sicurezza do invece 4 stelle. L'indonese è infatti generalmente considerata sicura per i turisti. Tuttavia, come in molte destinazioni turistiche, è consigliabile però prestare attenzione ai borseggiatori nelle aree affollate e prendere le normali precauzioni per garantire un viaggio senza problemi. Per quanto riguarda le attività, si merita senza dubbio 5 stelle. Offre un'infinità di attività per ogni tipo di viaggiatore, dalle spiagge mozzafiato al surf, dalle immersioni alla cultura e la spiritualità dei templi. La varietà di attività è davvero vastissima, garantendo esperienze indimenticabili per tutti i gusti e l'età. Il mio giudizio personale sono 15 5 stelle. È infatti una meta davvero mozzafiato, che ogni persona dovrebbe visitare almeno una volta per rendersi conto di quanto questo luogo sia davvero unico. Io ti ringrazio per avermi seguito fino a qui in questa avventura, in questa terra lontana ma davvero spettacolare. Spero che questo video ti sia piaciuto e che ti sia servito a progettare la tua prossima vacanza. Fammi sapere nei commenti quale luogo ti è piaciuto maggiormente. Se non l'hai già fatto puoi metti like ed iscriverti per rimanere aggiornato con le prossime mete. Ti ricordo inoltre che forniamo consulenze per aiutarti a progettare i tuoi prossimi viaggi, basta contattare la mail qua sopra. Ti aspetto nei prossimi video. Grazie a tutti.